Ehi la ciurma, io sono Matt S e ben ritrovati in questo nuovo tutorial di Mount & Blade Bannerlord Spero che i tutorial precedenti vi siano serviti e spero che anche questo possa esservi utile seppur appunto la qualità è ridotta dalla mia configurazione attuale di pc e di microfono dovuto al covid-19 Allora, oggi vediamo un attimo i comandi per gestire una battaglia i comandi strategici di gestione delle varie truppe Intanto è importante vedere come sono distribuite le truppe Potete suddividere le truppe oltre a quello che viene fatto in automatica cliccando sul simbolino contenente il numero romano accanto alle truppe nella sezione del party Adesso qua non posso farvelo vedere ma comunque è facile da capire Ci sono da 1 a 9 come numeri e ognuno è già preimpostato per una tipologia di truppe Per cui 1 sono la fanteria, 2 sono gli arcieri, 3 la cavalleria e via dicendo Ci sono 9 spazi appunto in cui vengono tutti divisi C'è anche uno per i picchieri, uno per la cavalleria pesante, uno per gli arcieri e cavallo eccetera eccetera Detto questo, allora vediamo un attimo quello che è il menu principale Allora intanto iniziamo col dire che appunto i numeri da 1 a 9 servono per selezionare i vari gruppi Per cui se io adesso seleziono 1 in questo momento vedete che abbiamo la fanteria 2 sono gli arcieri, 3 abbiamo una cavalleria e 4 abbiamo gli arcieri a cavallo Se invece andiamo a selezionare un numero che non è nessuno di questi che abbiamo al momento Per cui in questo caso per esempio 5 Vado a selezionare tutti, se avessimo avuto qualcuno nel gruppo numero 5 andavo a selezionare il gruppo 5 Lo stesso succede con 6, 7, 8, 9 Quello che invece vi andrà bene sempre è lo 0 perché non c'è un gruppo 0 Quindi con 0 selezionate tutti sempre a prescindere da che gruppi avete in quel momento Una volta che viene selezionato un gruppo potete vedere là sulla sinistra che è apparso una sezione con i vari pulsanti per le varie indicazioni da assegnare alle vostre unità Allora iniziamo con ordine Tutta la sezione F1, premendo F1, indica i movimenti I movimenti... ah no, ultima cosa che volevo dire Sul selezionare di base sono selezionati tutti Quando voi entrate in una battaglia senza indicare nessun numero Se date un comando in quella situazione là lo date a tutti Altrimenti appunto se poi andate a selezionare un'unità dopo dovrete riandare a selezionare tutti Oppure un'altra unità che volete scegliere F1, se premiamo a questo punto un altro dei numeri con la F Andiamo a dare delle indicazioni diverse su uno spostamento della nostra truppa Per cui se andiamo a indicare di nuovo F1 Gli diciamo andate in questa direzione Perché se vedete con F1 una volta che premiamo una volta F1 Appare questo standardo qua con dei piccoli bandierini verdi Che vanno a indicare la nostra truppa dove si suddividerà Se noi andiamo a premere per esempio F1 qua Vedete che sono spostati tutti qua Adesso ripremiamo F1 per dare un'altra indicazione F2 semplicemente seguitemi E' un'indicazione che questa viene spiegata nella parte del tutorial Perché quando si va a attaccare l'accampamento dei banditi Vi dice fate seguire voi le truppe perché così almeno non vanno a caso Uno non restano indietro e due non si fanno ammazzare a caso Può essere molto utile per difendervi O se per caso voi siete per esempio nella parte della cavalleria e volete che la cavalleria vi segua Comunque un tipo di unità che è uguale a voi In questo caso la loro priorità sarà sempre seguire voi E se per caso incontrerà qualche nemico nel mentre si attarderà a colpirlo Ma fin tanto che non si allontana troppo da voi stessi Di nuovo F1 F3 è carica Carica è una cosa molto Che era molto utilizzata in Mountain Blade Warband Adesso gli do l'ordine di fermarsi qua Ma su Bannerlord è un pochettino meno utile Perché carica manda come avete visto tutti anche gli arcieri a distanza ravvicinata Per cui non è una cosa ragionata È più che altro comoda quando per esempio gli altri si stanno ritirando e volete non risparmiare nessuno In quel caso con carica si metteranno tutti all'inseguimento Però appunto è un inseguimento sregolato e senza alcuna strategia Per cui non è buono in genere da utilizzare per quando si vuole uno scontro frontale Quel comando là invece è molto importante E' il qua F4 F1 e F4 è avanzare Questo qua sarà un'avanzata molto più calcolata E in cui essi ragioneranno anche sulle distanze Gli arcieri si fermeranno alla distanza voluta E lo stesso per chi appunto ha dei giavellotti o via dicendo Una cosa che non vi ho detto in precedenza L'F1 può essere anche fatto cliccando con il mouse Una volta che è stato indicato F1 Oppure se noi teniamo premuto F1 in una determinata posizione Adesso devo uscire Se teniamo premuto F1 in una determinata posizione No adesso non funziona più Andava Mentre invece se premiamo il tasto destro Torniamo nella selezione precedente del menu Ok? Quindi F1 entra là F2 Cioè con il tasto destro torniamo alla selezione precedente del menu Ma torniamo invece ai movimenti Abbiamo detto F4 è per avanzare F5 invece è per arretrare Che non è però una ritirata È un arretrarsi combattendo Per cui è Per esempio se si è ingaggiato in un punto scomodo per noi Cercare di arretrare in una posizione più comoda Poi si può appunto fermare la truppa in quel punto là E non si ritirerà Per esempio in questo caso F6 è stop Quindi vuol dire Se noi gli stiamo dicendo per esempio di andare a posizionarsi là E diciamo F1 e F6 Come vedete si sono interrotti a metà Adesso li riposizioniamo davanti con il clic del mouse F7 invece l'ha ritirata In questo caso è l'opposto della carica Per cui andranno indietro cercando come unico obiettivo Quello di salvare se stessi Quindi ingaggeranno poi il meno possibile E usciranno dalla mappa In modo da potersi salvare e non rimanere uccisi Questa è un'ottima cosa quando si sta per esempio perdendo E si vogliono salvare delle truppe F9 invece è per uscire indietro Molto molto poco utile Perché il tasto destro del mouse è molto più veloce Che non andare a cercare F9 Passiamo invece alla sezione F2 F2 è per dove devono direzionarsi Allora come potete vedere In questo caso c'è questa bandierina Che ci va già a indicare una direzione Se noi andiamo a cliccare Come potete vedere ha anche una freccia sotto Adesso non sono nel terreno migliore per mostrarvela Ma prendendo come centro il centro della loro formazione attuale Questa qua va a indicare una direzione Per cui se vado a cliccare con il mouse qua Come vedete si girano tutti verso la direzione della mia bandierina Sì pian pianino c'è qualcuno che è un pochettino più incasinato Ed è appunto quella F1 Che si può fare anche con F1 F2 invece direzionatevi verso il nemico Che è quella base che c'è predefinita No ho sbagliato F9 invece per tornare indietro sempre F3 sono le formazioni Le formazioni sono quelle che potete vedere là indicate Non c'è nulla di particolare da spiegare L'F1 è una linea F2 è uno shield wall F3 è più separati Che può essere comodo per esempio per gli arcieri In modo da non ricevere troppo danno Essendo abbastanza staccati uno dall'altro F4 è in cerchio Che può essere comodo per proteggere per esempio Una formazione in caso difensivo Magari degli arcieri al centro Con dei picchieri o dei lanceri esterni Per difendere dagli attacchi di cavalleria Square è a quadrato Skane è il cuneo Che è molto comodo per una cavalleria Che vuole andare ad attaccare Per sfondare una linea difensiva di fanteria F7 a colonna Non ho mai trovato un uso particolarmente interessante per questo E F8 invece è sparsi Che è un po' come loose Ma sparsi Senza una formazione più specifica Detto questo Noi andiamo a selezionare in questo caso L'unità No L'unità 1 Ok? Che sono i nostri fanti Arrederemo un attimo per No Spostiamoci Ecco qua Possiamo avere una visione un pochettino più ampia Andiamo a fare la formazione A linea Ok? Allora in questo caso noi Indichiamo loro di andare in questa No Non gli abbiamo indicato la posizione ovviamente Perché questa era solo quella della formazione Allora F3 F2 come potete vedere hanno Fatto un Una parte scudata F3 invece si spargono E continua a prendere F1 A cerchio No No F3 F5 A quadrata Per quanto possibile Questo è molto poco utile per la fanteria in realtà Colonna Ok questo non l'hanno capito Ritorniamo le nostre informazioni Allora Questo per esempio per l'infanteria Per l'infanteria Per la fanteria non ha alcun senso Però per gli arcieri ha molto senso Allora passiamo adesso nel gruppo 2 Come potete vedere possiamo anche passare da uno all'altro Mentre siamo già nel meno di selezione F4 F4 La informazione base è fuoco a volontà Ed è quella con cui si inizia una battaglia Per cui ve ne sarete resi conto Appena iniziano ad avere dei nemici a tiro Iniziano a lanciare frecce o dardi Fin dato che non li esauriscono Spesso questa tattica non è molto comoda E' molto più comodo iniziare una raffica di frecce in contemporanea Quando sono abbastanza ravvicinati Perché quando sono molto lontani La precisione ne risente molto Quindi in questo caso basta premere una volta F4 E cosa succede? Hold your fire Ciò vuol dire che si tratterranno dal tirare frecce Fin tanto che non verrà indicato Una volta premuto di nuovo F4 Come potete vedere riprendono anche con l'animazione l'arco Mentre invece qua Vedete che lo ripongono E adesso appunto appena avranno un nemico a tiro Attaccheranno Per cui se voi volete fermare il tiro delle frecce Prima che il nemico sia completamente a tiro Prendete semplicemente una volta F4 Avendo selezionata la truppa Quando il nemico a tiro Premete un'altra volta F4 Inizieranno tutti in contemporanea A tardeggiare il vostro nemico Questo invece è importante Per quanto riguarda I nostri cavalieri Comando simile Ma per quanto riguarda i cavalli Smontare o Montare a cavallo Da quel che ho visto Ogni tanto è buggata C'è ogni tanto qualcuno che non riesce a salire sul suo cavallo Non è stato questo il caso Ma ogni tanto ce ne rimane qualcuno Che si incastra in qualche modo Non riesce a salirci correttamente Quindi Una volta Ridetto di nuovo Non succede niente Questo può essere molto comodo Per esempio in caso di assedio O altre situazioni simili In cui vediamo che la cavalleria ci è soltanto scomoda Allora li facciamo scendere a cavallo Per non creare delle confusioni Tipo ad esempio in questa mappa qua Con degli alberi molto fitti No beh Questa è neanche troppo Però ci sono delle mappe con alberi molto fissi O comunque con dei dislivelli importanti In cui la cavalleria rimane solo ingolfata Tra le asperità del terreno E gli alberi stessi Per cui è molto più comodo Lasciarli appunto a piedi Stiamo quasi alla fine F6 è No diamo un attimo Prima su F7 F7 è un comando molto importante Per gestire le nostre truppe Mentre siamo in battaglia Per creare e cambiare Le suddivisioni in cui abbiamo le nostre truppe In questo caso Noi siamo entrati in questa selezione Con 3 Che è il gruppo appunto Che vedete qua Oscurato E viene comunque selezionato qua sopra Possiamo decidere di prendere Dai 19 che sono nel gruppo 3 Un numero variabile E andare a metterli in un'altra unità Per esempio Insieme agli arcieri Oppure creare una notte Unità Della infanteria pesante Come potete vedere Adesso Ah qua ci dà i nomi Infanteria Ranged Questi sono i cavalieri Questi sono i cavalieri Le arcieri a cavallo Schirmisher Heavy infantry Light cavalry Heavy cavalry Vogliamo mettere Scusatemi 10 di questi cavalieri Con la cavalleria pesante Quindi premiamo su 10 Come potete vedere Adesso ci sono due gruppi Il numero 3 adesso è passato a 9 unità Mentre invece il numero 8 È passato a 10 unità Possiamo fare il discorso inverso Selezioniamo il numero 8 F7 E li spostiamo di nuovo tutti Nel treno Questa è una tattica un pochettino più elaborata Ma può essere molto comoda Durante delle strategie avanzate Ultimo comando F6 F6 Lascia tutto in comando Alla I Che si occuperà di gestire La battaglia Può essere comodo Quando per esempio La battaglia è molto semplice Non vogliamo Sporcarci le mani O quando non abbiamo voglia Di farla È vero che c'è anche Il La simulazione tattica Ma non sempre Si ottiene lo stesso risultato Per cui certe volte Può essere comodo Entrare in battaglia E Premere semplicemente A tutti F6 In modo da Farla gestire Un'autonomia Dalla AI Che quindi Si occuperà completamente Della gestione Della battaglia Detto questo Io vi ringrazio Per la visione Spero che sia stato Tutto chiaro Se avete altre domande Potete chiedermi Appunto Tutto nei commenti Se Vi è stato utile O Se vi è interessato Vi invito a lasciare un mi piace E scrivervi Se per caso Non l'aveste ancora fatto Ciao a tutti E una buona giornata